Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono sempre Glacier Sphere ed oggi andremo a provare il nuovo soldato, o meglio, il nuovo vecchio soldato, dato che a quanto pare non è che sia cambiato così tanto in quel campione. Altri sono stati leggermente rewardati, come ho visto sono stati leggermente modificati, ci sono dei campioni nuovi e in questa piccola serie che vorrei fare su Overwatch 2 vorrei andare a giocare tutti i campioni del gioco, o meglio tutti gli eroi del gioco, non i campioni perché i campioni dovete sapere che sono in League of Legends o magari in Heroes of the Storm, anche se lì sono più eroi. No, ok, solamente in League of Legends, oppure stavo pensando a Dota 2 o magari anche a Smite, insomma quei giochi lì. Qui abbiamo gli eroi, quindi vorrei fare una serie, una piccola serie in cui vado a giocare in ogni video un eroe di Overwatch per scoprirlo, per farvelo anche vedere, per far vedere il suo gameplay e vedere proprio le sue abilità e come appunto verrà giocato. Sono entrato su Overwatch dopo una relativamente lunga coda, circa una ventina di minuti, ho dovuto aspettare per giocare e è praticamente dopo pranzo, sono le due, quindi insomma la sera è una situazione molto più critica, se volete giocare a Overwatch la sera c'è una coda lunghissima e non ci provo nemmeno a giocare la sera praticamente. Dato ciò quindi mentre cerchiamo la partita e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo nuovo soldato e di iscrivervi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti. Partita trovata, connessione al server, vediamo, uh Junkertown, una mappa vecchia e selezioniamo soldato con la skin nuova, vedete? Allora qua è incazzato, incazzato e vecchio tra l'altro. Selezioniamo il nostro soldato, ho anche altri aspetti, ho Cyborg 76, Maglione 76, Nero, Oliva, però mettiamo Overwatch 2. Eccoci, pronti. Preparati ad attaccare. Ok, qui ora dobbiamo aspettare essenzialmente. Dobbiamo aspettare. Poi per vedere l'abilità di soldato, forse F1, esattamente. Fucile a pulsi, fucile automatico d'assalto, la ultra, la sua ultra appunto come viene definita qui la suprema, la ultimate come volete chiamarla, è visore tattico, prende di mira automaticamente i bersagli in vista, quindi è praticamente il trucco dell'Aimbot. Poi, abilità, scatto corri più velocemente e rigeneratore biotico, posiziona un dispositivo che cura te e i tuoi alleati e, tasto destro, spara una salva di razzi esplosivi. Passiva, le eliminazioni aumentano per breve durata la velocità di movimento e di ricarica. Vai! Sappiamo tutto ora! Ah, che botta. E va bene. Ok, 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 ok. Tocca uscire, tocca uscire. Tocca uscire immediatamente. Questo ha fatto un po' il cheese and cheese, eh, lì. Sto in famella. Via, uscire subito da questo posto. Andiamo a colpire i nemici. No, sto cercando di sparare. Mettiamo sempre la nostra cura quando ce l'abbiamo, eh. Cerchiamo di usare le nostre abilità al più possibile. Ok, forse potrei metterlo addirittura uno... potrei mettere la cura sul payload. Mmm, guardazze, sì. No, qua mi hanno distrutto, erano tutti dietro di noi. Però il payload sta andando avanti. Quindi, ovviamente, in Overwatch non si gioca per le kill, ma si gioca per... a mandare avanti l'obiettivo. Allora, vai, continuiamo, continuiamo. Pregatti, vi ho già fatto vedere tutte le abilità di soldato. Alla fine sono queste. Guarda che merda quella. No, qua conviene andarsene. Ah, mi ha grabbato. Niente, sono morto. E invece sono ancora vivo. Qualcuno mi ha salvato. Non ho ben capito chi. Bisogna colpire quel junk, ratta. Eccolo. Curiamoci. Qua è morto. Vai, ti ho nel mirino. Crepi. Buono. Buonissimo. Mettiamo la carica qui. Per curarci. Daie, daie, daie. Oh, lui ha poca vita, eh. Bravi che l'avete ucciso. E' difficile colpire bersagli un po' lontani. Andiamo a scortare il carro qui, eh. Perché altrimenti... Se non viene avanti è un casino. Attenti poi... Là. Attenti, attenti, attenti. Che botte, ragazzi. Eh, sapevo che lo devi grabbare. Lo sapevo. Basta, basta. Che danni. Muori, brava. Perfetto. Io sono un po' arruginito, eh. Però... Ce la stanno cavando bene i miei compagni, in realtà. Non tanto me. Ecco. Mettiamo un po' di danno. Fuori, ottimo. Vai, mettiamo la cura. Buono. Buonissimo, raga. Buonissimo. Vediamo se ci sono altri nemici a cui sparare. Ma andiamo qua su. Ecco lì. Buono. Eliminato. No, infame. Buono, ultimate. Vai, subito. Tu è perfetta la ultimate. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Oh, raga. Li abbiamo uccisi tutti. Cioè, fantastico. Certo, con le aimbot. Io ripeto che le ultimate di questo gioco non hanno alcun senso di esistere. Sono praticamente dei trucchi. E' eliminato pure lui. Raga, bella partita questa. Vinta abbastanza facilmente. E continua il problema del fatto che Overwatch 2 non sape creare... Ah, azione della partita. Non sape creare delle squadre equilibrate. Ah, qui? Pensavo alla fine quando ho fatto tipo tripla. Wow. Avete visto che abilità incredibile che ci vuole a giocare il soldato. Eh? Fantastico. Elogio ricevuto pure. Wow. Beh, che dire. Incredibile. Hai raggiunto il grado 2 del pass battaglia. Me ne frega tanto. Allora. Continuiamo con un'altra partita perché in questi video non voglio portare solamente una partita di un campione, ma... Due. Due o anche tre. Bisogna vedere quanto durano. Se una partita dura molto poco, magari. Anzi, se le due partite durano molto poco, ne porto tre. Ah, oasi. Oasi, se non sbaglio, era una mappa anche di... Era una mappa anche di Overwatch 1, giusto? Andiamo sempre di soldato. Senza alcun problema. E vediamo cosa bisogna fare ora. Attacca. Perfetto. Dobbiamo attaccare nella partita di oasi giardini. Ah, bisogna conquistare punti qui. Ok. Soldato non mi sembra molto indicato per una partita di questo tipo, però almeno facciamo due partite di tipo diverso. C'è una con il payload che dobbiamo spingere e l'altra invece con la conquista delle zone. Va bene. Allora, devo rifare le emote. Vai. Non posso farla. Boh, vabbè. Ho cliccato ma non andava. Allora. Vai, andiamoci prima noi. Loro arriveranno da là. Metto subito una cura qui. Eh, cappio. È arrivata da dietro sta tipa. È il nuovo campione, l'è vero? Che mi ha ucciso in due colpi. Sì, nuovo campione. Che strano che i nuovi campioni siano forti, eh. Allora. Hanno conquistato l'oro B. Va bene. Dobbiamo riprendercela. Questo cos'è un arghile, eh? Sì. Vabbè, raga. Mi sono trovato di nuovo dietro il campione nuovo. Cioè, boh. Guardalo. Guardalo come arriva da dietro. Niente. Ti tiro un colpo a crepi. Non so ancora di preciso cosa faccio con il campione, eh. Andiamo. Mi sono buttato sul soldato all'inizio perché è il campione più semplice di tutti. Ed è anche quello che conosco meglio. Buoh, va bene. Dai, raga. Non possono morire. Per favore, eh. Una morte lenta. Una morte veloce. E in dolore, eh. Epa. Campione nuovo schifoso. Guardalo. Cioè, boh. Ma poi perché ha così tanta vita qualcosa? È un tank. È un tank che però ti sciotta. Guarda. Pam. Morto. Via. Boh. Davvero strano quel campione. Dovrò per forza utilizzarlo per capire cosa fa. Perché per adesso mi sembra davvero troppo forte. Morto. No, mi sto curando. Mi sto curando. Non può sopravvivere di nuovo sta tipa. Niente. Si cura anche a quanto pare. E niente. Poi, butta. No, no, no. Basta, basta. Ha rotto le palle. Muori. Non romperai le palle. Morite tutti. Grazie. Contestiamo. Contestiamo. Peppa. Peppa. Ma do questa? Eh, niente. Della pioggia di fuoco. Eh, questa è dura, ragazzi. Dura, dura, dura. Mi sa che è persa. Perché diventa tutto nero? Scusate. Ok, è persa. Uno a zero. Vediamo se andrà meglio nella prossima. Il campione nuovo comunque mi sembra sbloccato. Gli ho tirato due caricatori in faccia e non è morto. C'è un canestro da queste parti, no? Non c'è il canestro qui. Però questa mi sembra nuova come cosa. Questa cosa qui mi sembra nuova. che si può distruggere. Vai, andiamo. Magari mi conviene rimanere indietro e lasciare andare un attimo avanti i tank, eh? Che dite? Rimanere un po' nelle retrovie. Questo dato da lontano non funziona benissimo, eh? C'è da dirlo. Meglio è meglio raggio. E se sei troppo lontano, la rosa di colpi non colpisce mai. Colpisce davvero poche volte. Vabbè, muori però una volta, portocane. Una curetta? No, eh. Cazze. Ecco che è arrivata la nuova. Ah, niente, non sono riuscito. Ho messo il campo della cura troppo tardi. Questo è Doomfist. Ne ho viste di peggio. Vediamo se si riesce a riprendere il punto. Peccato, speravo l'avessimo conquistato, perché sembrava che l'avessimo conquistato. Dato che tipo erano tre su di me. Niente, c'è un champion nuovo. Ho sbloccato come al solito, tiriamo via sto coso. Boh, ragazzi, non capisco chi è che metta tutti quegli scudi, chi è che faccia tutte quelle cure. È impossibile uccidere i nemici, praticamente. GG Overwatch 2. GG. Gabbè, Overwatch ha sempre avuto un problema con le cure, c'è da dirlo. Overwatch ha sempre avuto un problema con le cure, per quanto mi riguarda. Cioè, si curano troppo in Overwatch. E il fatto che ora abbiano fatto 5v5, mi sa che non hanno bilanciato, però viene il fatto che ci sono due supporti. Perché ci sono troppe cure nel gioco. Troppe, troppe cure. Vabbè? No, no, troppe cure, ragazzi. Non va bene. Cioè, per quanto mi riguarda il bilanciamento del gioco, avendo tolto un giocatore, si è davvero sbilanciato parecchio. Perché a quanto pare le cure non le hanno nerfate molto. Non so se le abbiano nerfate in primo luogo e se l'hanno fatto, non l'hanno fatto troppo. Perché, boh, i tanti non muoiono più, ragazzi. Avevo fatto una partita anche nel video che magari avete visto, la mia prima partita su Overwatch, in cui avevo giocato Rodog. E, cioè, letteralmente, non sono morto forse una volta in tutta la partita. Eh, boh, troppo. Troppo, troppo. È troppo facile rimanere in vita con i tank. E infatti ti permettono di avere solo uno nelle code con i ruoli. E niente, abbiamo perso anche questa. Cioè, abbiamo perso questa, la prima l'abbiamo vinta. Disintegrato. Comunque si riconferma il problema di Overwatch 2, in cui non ci sono per ora partite equilibrate. Io ho fatto cinque partite in tutto, nemmeno una è equilibrata. O straperse come questa, o stravinte come la precedente. Peccato. Cioè, a quanto pare non riescono a bilanciare il gioco. Perché magari può capitare che una sia... Una sia più facile, una sia più difficile ogni tanto, di trovarne uno stravinto o strapersa. Però per ora cinque su cinque. Tutte stravinte o tutte straperse. Vediamo la terza e ultima partita di questo video, come sarà. Ed eccoci a New Queen State. Prendiamoci Soldato. E vediamo se questa ultima partita riuscirà ad essere un minimo equilibrato, oppure se sarà la clown fiesta totale, come tutte le partite che ho fatto finora. Allora, sarà una partita dove bisognerà spingere, immagino il payload, visto il simbolino di questo mino qui. E noi dovremo attaccare. Va bene. Alla fine, Soldato non è male per attaccare. Abbiamo Bastion. Il nuovo Bastion. Sono curioso di vederlo, perché ho visto che non deve più stare fermo mentre è in assetto da carro armato, praticamente da mitragliatore. Perché il carro armato è la sua ultimate, a meno che l'abbia cambiato anche quello. Sono davvero curioso di vederlo. Fatti vedere. Adesso lo inseguo e lo metto a risaglio. Dove sei? Vieni qua. Vai, andiamo. Ah, ok, no, questo è quello che bisogna mandare il trasporto dall'altra parte della mappa. Ok. È la prima partita in assoluto che ho fatto. Era già iniziato, non ho capito niente. Però è andata così. Eccolo che arriva Giancarat con le sue bombette. Oh, raga, io gli ho tirato un colpo lì, che non ho capito come mi hanno fatto a non morire. Figura, te l'avranno curato. E' boh. Buono. Ahia. Tiè che colpisce? Dietro. No, è impossibile colpirli. Loro mi colpiscono subito. Dai, dai, un'altra curetta. Ottimo. Bene. Usiamola anche come scudo, questa. Vedete? Come scudo ci farà un botto di danni. Io sto cercando di fare danno, ma qui è difficile, molto difficile. Eh, niente. Mi hanno disintegrato, infatti ero da solo ormai. Ero rimasto solo. E il trasporto sta tornando indietro. Di corsa pure. sotto la mia... Boh. Se ne pentiranno. Quindi quando lo spingi, va molto lento, ma quando deve tornare indietro, va di corsa. Bloccateli. Ed ora stanno spingendo loro. Ci supereranno se non li fermiamo. Eh, raga, lo scudo di Reinhardt... Sto provando a tirarlo giù io, eh, ma... Prendo più danni che altro, non capisco. Arrivano i miei, per favore. Niente. Tre martellate di Reinhardt e sono stato disintegrato. Guarda, pam, 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 easy. I nostri supporti non fanno un cazzo. Sono nella coda quella con i ruoli assegnati, quindi due supporti devono esserci per forza. Dall'altra parte hanno un tank che sta tankando tutto il tankabile, ed è il supporto che curano a manetta. Ma ci... Vedete quanto tempo ci metto a uccidere un cazzo di supporto? Oh, finalmente, mo' muoio. La rosa dei colpi non mi soddisfa troppo di soldato. Sembrava leggermente più precisa in Overwatch 1, ma potrebbe essere un mio ricordo falsato, eh. Potrebbe essere un mio falso ricordo, in realtà. E' qui sopra, Giancaratron? Oh, raga, cioè, vuoi morire, per favore? Grazie. Ok, devo curarmi un secondo, poi arrivo, eh. Ah, cura, finito già le cure. Va bene. Mi hanno preso il robot. Eh, di nuovo. Via. Dobbiamo curarci. Oh, raga, io porto un po' di danno, ma è inutile, cioè... Bello che gli vado da rietto qua. Portato un bel po' di danno, eh. Muori, muori, figa, muori. Eh, ma questo adesso mi smartella. Niente, cioè, non riesco a capire cosa debba fare per fare di più. Come danni, ho fatto parecchi danni. Cioè, dall'altra parte è solo la tipa con 7000 danni che mi supera, però... La tipa con 7000 danni è un Reinhardt che si mette con lo scudo davanti a parare qualsiasi cosa. Noi abbiamo Orisa. Anzi, Marisa. Ribattezzata Marisa. Impossibile da colpire, pure là. Oh, muori. No, stunnato. Dov'è? Fa morire, grazie. Non ho colpito nessuno con il mio colpo, lì, eh. Via. Eh, portiamo sto cacchio di robo... ...da un'altra parte. E mo' come cacchio si fa a capire dove ho colpire qui? Bravi. Cosa? Chi mi ha ucciso? Il cecchino! Ah, questo ha un cecchino? Non c'era solo Widowmaker come cecchino, ne hanno aggiunto un altro, quindi. Ok. Eh, avanziamo. Buonanotte. Niente, iniziano a riportarlo indietro loro. Sto arrivando, raga, sto arrivando. No, bomba in buca no. Dove arriva? È morta la bomba. Eccolo qui. Eccolo qui, lo stronzo. Può gentilmente morire quella, grazie. Ottimo. Eh, dai, portiamola avanti. Oh, ce la fai, robo di merda? Avanti. No, a quanto pare non ce la fa. Oh, dai, su. No, troppi, 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 e niente, non ce l'ho fatta. Ho usato, però, ultimate, sto tipo. No. Che poi, anche lui è un campione nuovo, ma non so cosa faccio esattamente. Sono rimasto molto indietro con le release di Overwatch, eh. Come avete anche già lo fatto, immagino. Ma dai, un HP di è rimasto. Muori, figa. Cos'era quella roba? Niente, ci ho provato. Ma mi aveva annullato la mia, la mia abilità di cura, perché aveva messo sopra una roba che mi faceva molto più danno. Anche questo è nuovo, sbaglio. Cioè, tizza che tirava... Tirava gli shuriken, c'era solo Genji, in teoria. Sto arrivando, sto arrivando, anche la ultimate. Ma dai, ti faccio danno. No, dai, non sono riuscito a colpirlo, prima che andasse lì. Ma adesso uso una ultimate, eh. Tiriamolo avanti, sto coso, un attimo. Tiriamolo avanti, ecco. Ma ci sono già troppe persone qua, per i miei gusti. Tio nel mirino. Ciao. Buono. Dai, continuiamo. Oh, una partita equilibrata, ragazzi. È la prima partita equilibrata. Vediamo qui sotto, se riusciamo a flancare un attimo. Tipo andandoli da dietro. No, siamo arrivati dietro al nostro stesso team. Ho messo un po' di cure qui, ma mi sa che non è abbastanza. No, infatti, Moira con la sua ultimate mi ha disintegrato. Totalmente. E infatti, guardate come cercava me sta Moira infame. Moira in Overwatch 1 era uno dei campioni più forti del gioco. Non so se è la stessa cosa anche in Overwatch 2, ora. Dovremmo star vincendo, credo. Muori. Capate tutti. No, si è messo davanti sto merda di robo. Beh, lui ha sperimentato il fatto che, appunto, avessi molte cure, ma non sono state abbastanza le cure che mi hanno dato. C'era qualcuno che mi stava curando, poi ho smesso di farlo, non so bene per quale motivo. Sì, infatti, basta fermarli una volta, ragazzi, dai che abbiamo vinto. Comunque, sono contento di fare per la prima volta una partita equilibrata. Eccolo che va. Muori, fattimo. No, dai, mi ha stunnato. Oh, raga, però non possono avere tutta quella vita. Ma che vuol dire? E io qua ho sbagliato il tale. Ho sbagliato il tale totalmente. Però, però, qualcosa ho fatto. Due li ho ammazzati. Il problema è che il mio team non so dove cacchio sia. E vedete, anche lì ero ancora da solo, contro tutti. Il mio team era indietrissimo, non so se è bene per quale motivo. Non dirmi che abbiamo perso. Ah, ok, vittoria. Buono, dai. Buono, buono, buono. Dai, sono contento di aver vinto questa partita. La prima partita effettivamente equilibrata della, di Overwatch 2. Azione migliore della partita di nuovo mia. Immagino con lane bot, vero? Con lane bot. Sì, qua dove ho ucciso tipo tutti. Molto difficile come cosa, come vedete. Ci vuole molta abilità per fare questa cosa. L'unica kill decente è l'ultima, perché avevo predictato il fatto che lui annasse lì. E infatti lì ho tirato il tasso destro. Verrà aggiunto il grado 3 del pass battaglia. Bene così. E a questo punto, però, usciamo dalla coda, perché questo video finisce qui. Abbiamo giocato il soldato di Overwatch 2. E vi ricordo di lasciare quindi un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.